Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto del 61enne Ed Gastolano in semilibertà che lo scorso lunedì sera Sorbolo nel Parmese aveva prima svuotato una bottiglia di acido sulla testa della compagna, poi l'aveva accoltellata ed infine aveva tentato la fuga. Era stato bloccato ad Arezzo da carabinieri e polizia stradale dopo un inseguimento di 300 km nell'area di servizio di Badialpino, vicino al casello. L'uomo è accusato di tentato, omicidio ed evasione. Il GIP, recependo integralmente l'attività investigativa operato dai carabinieri, ha emesso nei confronti dell'arrestato un provvedimento cautelare e resistivo in carcere. L'attività investigativa svolta dai carabinieri di Parma ha permesso di individuare e porre sotto sequestro l'arma ritenuta usata dall'arrestato per colpire la donna, un coltello della cucina con lama da 2 cm, mentre la perquisizione personale dell'arrestato da parte dei carabinieri e figli di Valdarno ha consentito di rinvenire un manoscritto dall'apparente valenza confessoria. La donna di 54 anni, vittima della brutale aggressione, era finita in ospedale a Parma. A una prognosi di 15 giorni avrebbe riportato ustioni principalmente al volto ed è rimasta anche ferita ad un fianco per una coltellata inferta dal compagno.